Dopo il blitz in Olanda e Danimarka, il presidente ucraino Zelensky incassa l'ok alla fornitura degli F-16, ma per la consegna bisognerà attendere la fine dell'addestramento dei piloti almeno sei mesi. Mosca minaccia, li distruggeremo. Oggi missione di Kiev in Grecia per incontrare il leader dei paesi balcanici. Dal meeting di Rimini, appello del Cardinal Zuppe all'Europa, fa troppo poco per la pace. Occorre scongiurare il rischio di un conflitto mondiale. Contro gli evasori fiscali, via i controlli incrociati su conti correnti. Dopo l'ok del garante della privacy, il direttore dell'Agenzia dell'Entrata Ernesto Ruffini annuncia le prime verifiche su versamenti e redditi dichiarati. Nel Mirino, 57 miliardi di euro, quasi 3 miliardi di entrate in più entro il 2025. In arrivo, 3 milioni di avvisi bonari con l'invito a mettersi in regola. Troppe incongruenze nella ricostruzione dei fatti. Per gli investigatori è stato un omicidio mascherato da suicidio. La morte di Vera Schiopo, la ragazza moldava di 25 anni, trovata impiccata in un casoolare in provincia di Catania. I carabinieri hanno fermato il fidanzato e un amico, avrebbero organizzato una messa in scena. Sono già 76 le donne uccise dall'inizio dell'anno. Accordo bipartisan in Parlamento per la legge sul femminicidio in due mesi. Serie A, scatto Juventus. Ottimo esordio della signora, tre gol all'Udinesi con Chiesa, Vlaovic e Rabiot vince anche l'Atalanta a Sassuolo. Solo un pari per la Roma che ritrova il gol di Belotti. Oggi cade la Lazio, unica big a perdere. A Lecce la squadra dei Sarri si fa rimontare in due minuti dopo essere andata in vantaggio. Oggi le ultime due gare della prima giornata, Torino-Cagliari e Bologna-Milana. Sono le 7.30, buongiorno a tutti voi e ben ritrovati. Dunque, dopo il via libera degli Stati Uniti, Olanda e Danimarca hanno confermato che forniranno i caccia F-16 all'Ucraina. Gli aerei potrebbero essere consegnati già nei prossimi mesi. Intanto Mosca ha denunciato un nuovo attacco di droni e ucranie. Mentre c'è stata una risposta all'attacco russo, appunto questo sarebbe il motivo dell'attacco con i droni verso una città al confine con la Russia. Ma vediamo nel servizio. Gli F-16 chiesti a più riprese arriveranno finalmente in Ucraina. Ricevuto l'ok degli Stati Uniti, Volodymyr Zelensky è andato quasi a prenderseli ieri in due tappe in Olanda e in Danimarca. I due paesi Nato hanno promesso rispettivamente 42-19 jet. È un nostro dovere sostenere l'Ucraina, ha detto la premier danese Matt Frederiksen. I primi sei aerei partiranno intorno a inizio anno, ha aggiunto, mentre i piloti e gli ingegneri ucraini che la Danimarca addestrerà sono già nel paese. Prima della base aerea di Skridstrup, Zelensky era passato per quella olandese di Eindhoven, dove ha discusso di jet con il primo ministro Mark Rutte. Rutte ha confermato la fornitura Kiev, ma non i numeri né i tempi. Il presidente ucraino ha scritto su Telegram di 42 F-16 concordati con l'Olanda, mentre la consegna dovrebbe avvenire al termine dell'addestramento dei piloti ucraini, questione di almeno sei mesi, secondo la difesa di Kiev. Zelensky ha definito le decisioni di ieri storiche. La Nato infatti punta sui nuovi F-35 e gli F-16, come i jet Gripen, che il presidente ucraino ha chiesto alla Svezia sabato, nella prima tappa del suo viaggio, servono a sostenere l'avanzata nei territori occupati dai russi. In due mesi la controoffensiva ucraina a est e a sud ha registrato piccoli successi. Gli aerei potrebbero cambiare tutto, ma bisogna prepararsi a un lungo conflitto, forse anni, scrive da giorni la stampa americana, che in settimana ha riportato le stime del Pentagono dei morti in battaglia, 500.000 circa, tra soldati russi e ucraini, dall'inizio dell'invasione. Un anno e mezzo ormai in cui le vittime civili in Ucraina, quattro ancora ieri in attacchi nei dintorni di Kherson e Kharkiv, sono quasi 9.500, secondo le Nazioni Unite. Ed è notizia di poco fa, il Ministero della Difesa russo ha annunciato di avere sventato un attacco di droni ucraine nella regione di Mosca, senza che siano state segnalate vittime. Questo è quanto fa sapere il Ministero della Difesa, naturalmente vi daremo gli aggiornamenti. Rientriamo adesso in Italia per parlare di fisco, perché oggi sono in scadenza complessivamente 148 versamenti, dall'IVA all'IRPEF all'IRAP alla cedolare secca. Intanto parla il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, intervistato dal Corriere della Sera, rilancia naturalmente la lotta all'evasione fiscale e parla tra l'altro però anche di salario minimo. Dice che è uno strumento usato in molti paesi e potrebbe essere oggetto di approfondimento, ma capiamo meglio nel servizio. Strette in autunno sul fisco, un anticipo della riforma fiscale su cui la maggioranza punta tutte le sue fische, si è già oggi con la convenzione triennale firmata tra il MEF, il Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo, e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Tra gli obiettivi dalla lotta all'evasione fiscale c'è quello di raggiungere 57 miliardi, circa 19 miliardi ogni anno, e parte dei soldi servirà a finanziare un fondo taglia tasse. Sarà un fisco a due facce, duro verso chi si ostina a nascondere la ricchezza, e accomodante verso chi è in difficoltà e non riesce a pagare, ma vuole farlo. Il capo dell'Agenzia delle Entrate annuncia controlli incrociati su conti correnti per verificare incongruenze, traversamenti e redditi dichiarati. Ci saranno 11 mila funzionari in più preposti ai controlli, dopo anni di carenze d'organico. Sfruttando big data, blacklist, algoritmi e intelligenza artificiale, l'Agenzia delle Entrate si è prefissata di portare nelle casse dello Stato 2,8 miliardi in più, rispetto al trienno precedente, entro il 2025. E poi ci sono 2,7 miliardi che potranno entrare con le lettere di avviso bonario. Saranno spedite nei prossimi giorni e 3 milioni di contribuenti, soldi che potranno essere incassati già quest'ottobre. Uno degli obiettivi del PNRR sarà raggiunto prima della fine dell'anno, assicura il titolare dell'Agenzia delle Entrate. La stima totale ammonta 6 miliardi nei prossimi due anni. Molti obiettivi, fatturazione elettronica, dichiarazione autocompilata, sono stati raggiunti e andranno potenziati. Lo scopo sarà eliminare il modello 730 con le svariate pagine di istruzione per compilarlo. Come affermato ieri Ruffini, dopo la firma della Convenzione, non esiste un fisco amico, ma l'Agenzia sarà un interlocutore equo. Se con la frase pizzo di Stato della Meloni e l'Agenzia era vista come un nemico del contribuente a caccia del piccolo gettito, adesso diventa un fido alleato per trovare risorse per la prossima legge di bilancio. L'80% dell'evasione riguarda chi non presenta dichiarazione dei redditi o la presenta in modo infedele. Solo il 20% è evasione di mancato versamento, ricorda Ruffini. L'emergenza migranti rientra prepotentemente al centro del confronto politico. i sindaci protestano perché il Ministero dell'Interno e il Viminale ha fatto sapere che presto è pronto un piano con i nuovi parametri per quanto riguarda la redistribuzione dei richiedenti asilo. Allora, vediamo quali sono questi parametri nel servizio. Non si ferma il flusso degli sbarchi clandestini sulle nostre coste. La prima immediata conseguenza, oltre alle polemiche politiche, è il collasso delle strutture di accoglienza organizzate in comuni che vanno dal sud al nord del nostro paese. I sindaci denunciano che il sistema non è più sostenibile e criticano con forza le procedure di distribuzione sul territorio nazionale dei migranti. Un allarme di cui si fa portavoce all'Associazione Nazionale dei Comuni che informa che dall'inizio del 2023 in Italia sono giunte oltre 100.000 persone di cui il 10%, secondo gli ultimi dati del Viminale, è rappresentato da minori stranieri non accompagnati. E al centro dell'attenzione sono proprio i più piccoli per i quali l'Anci chiede centri di accoglienza. Ma, precisa il commissario all'emergenza, Valerio Valenti, la realizzazione va a rilento. Un fenomeno che trova conferma anche nelle parole del sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, per il quale i minori sono un problema e che la legge zampa sui permessi di soggiorno andrebbe cambiata. Molteni poi critica l'opposizione che, sostiene, manifesta un approccio ideologico che punta ad un'accoglienza illimitata e poi aggiunge che con gli amministratori locali occorre dialogare. Dal Viminale, intanto, secondo alcune di suoi costruzioni giornalistiche, viene definita surreale la polemica sollevata da alcuni sindaci, soprattutto del Partito Democratico, in merito alle difficoltà relative alla condienza dei migranti irregolari, in particolare i minori non accompagnati. Non solo, dal Ministero dell'Interno trapela anche malumore verso le regioni governate dalla sinistra, che hanno rifiutato lo stato d'emergenza, negando le criticità. La cronaca però registra insoddisfazione sulla gestione dei flussi dei migranti anche da parte di amministrazioni di centrodestra, in particolare in Veneto i sindaci leghisti di tanti comuni piccoli e medi dicono stop ad altri arrivi. Intanto è pronto un nuovo piano del Ministero dell'Interno per fronteggiare gli sbarchi, che vengono calcolati mediamente in 700 al giorno. Secondo le nuove regole non conterà più la popolazione residente, ma la superficie del territorio ai fini di redistribuzione dei profughi. Il risultato sarà più collocazioni nelle regioni meno densamente abitate, come Sardegna e Basilicata. Sono 76 le donne uccise dall'inizio dell'anno. L'ultima in ordine di tempo, una ragazza moldava che è stata ritrovata impiccata in un casolare nelle campagne siciliane in provincia di Catania. I carabinieri però non hanno creduto da subito all'idea del suicidio e hanno fermato il suo compagno ed un amico che avrebbero inscenato il suicidio. Un omicidio mascherato da suicidio. E' questo il sospetto degli investigatori della procura di Caltagirone che ieri hanno fermato due uomini. Il fidanzato è un amico di Veraschiopo, ragazza moldava di 25 anni, trovata impiccata nella casa in cui viveva, nella campagna di Ramacca, provincia di Catania. E' stato proprio il compagno della giovane, un cittadino romeno di 30 anni, ad avvisare i carabinieri. Subito gli inquirenti hanno ipotizzato una messa in scena. Le indagini proseguono, ma sarebbe soltanto l'ultimo episodio di femminicidio. Più di 70 le vittime da inizio anno, donne che in molti casi avevano denunciato i maltrattamenti subiti dai loro carnefici. Grida di aiuto, a volte inascoltate, come nel caso di Anna Scala, uccisa quattro giorni fa a piano di sorrento dall'ex convivente, denunciato per tre volte dalla donna. Ieri la ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Rocella, ha ricordato che il governo ha già assegnato alla Commissione Giustizia della Camera un provvedimento che mira a rafforzare le misure di prevenzione con tempi più rapidi e stringenti per la valutazione del rischio e misure più efficaci contro i femminicidi, dall'ammonimento al braccialetto elettronico fino all'arresto in flagranza di ferita. Il Parlamento potrebbe decidere per l'iter cosiddetto redigente, ha detto la ministra, una sorta di invito ad andare spediti, raccolto dal sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Il disegno di legge si può approvare in due mesi se opposizione e maggioranza concordano, ha detto Del Mastro, che poi ha ribadito che occorre votare il prima possibile la legge Buongiorno, che consente la vocazione della Procura Generale di fronte all'inattività di un pubblico ministero. Notizie dall'estero. L'Equador dovrà attendere il ballottaggio del 15 ottobre per conoscere il nome del suo nuovo presidente. A sfidarsi saranno Luisa González, 45 anni, fedelissima dell'ex presidente progressista Rafael Correa, che ha ottenuto il 33% delle preferenze, e Daniel Noboa, 35 anni, figlio di uno degli imprenditori più ricchi del paese, che si è fermato al 24%. L'alta affluenza alle urne, oltre l'80%, nonostante il clima di violenza scatenata dai narcotrafficanti, con lo shock provocato dall'omicidio del candidato centrista, Villa Vincenzo, favorito nella corsa presidenziale, altri episodi in prossimità di un voto presidiato dalle forze dell'ordine. Il nuovo capo di Stato si insedierà il 26 ottobre. E spostiamoci adesso in Guatemala. Il candidato progressista Bernardo Arevalo ha vinto il ballottaggio delle presidenziali quando è stato scrutinato oltre il 95% delle sezioni. Arevalo ha ottenuto il 59% dei voti contro il 36% della sua rivale, l'ex first lady Sandra Torres. La vittoria di Arevalo, 64 anni, è considerata il risultato della rabbia degli elettori nei confronti della classe politica e del fallimento nel combattere la corruzione nella principale economia dell'America centrale. Proprio su questo tema, insistito in campagna elettorale, l'ex diplomatico, che era favorito nei sondaggi. Secondo gli analisti nel paese, la transizione sarà tuttavia difficoltosa con possibili tentativi di intralciare il percorso di Arevalo. Ci sposiamo negli Stati Uniti, dove massima allerta per il passaggio della tempesta tropicale Hillary in California. In alcune aree della contea di Los Angeles la tempesta ha già provocato precipitazioni da record con inondazioni. I livelli dei fiumi si sono innalzati. Vedete queste immagini diverse, le strade allagate, molte scuole rimarranno chiuse e oggi gli abitanti sono stati invitati alla massima prudenza. Anche a seguito del disastro della Huaycon, le accuse di ritardi nell'allertare la popolazione nei soccorsi e massima l'attenzione da parte delle autorità che a più riprese hanno parlato di possibili inondazioni catastrofiche. Hillary era stata declassata da uragano al passaggio sulla costa messicana. È la prima tempesta tropicale in oltre 80 anni da abbattersi sulla California colpita anche da un terremoto di magnitudo 5.1 nell'area costiera di Los Angeles senza però conseguenze di rilievo. Parliamo di corsa allo spazio perché è fallita la missione della sonda russa che si è schiantata prima di toccare l'estremità meridionale della Luna a pesare. Ci sarebbe stata anche la fine della collaborazione con la NASA e con l'ESA. Vediamo. Distrutta dopo una collisione con la superficie lunare è fallita così la missione di Luna 25 la sonda russa lanciata verso l'orbita lunare 11 giorni fa ed è fallito il sogno russo di una nuova conquista il ritorno sulla Luna mentre sulla Terra il Cremlino è impantanato da un anno e mezzo nella guerra in Ucraina. L'ultima missione lunare di Mosca risale al 1976 l'Una 25 era partita il 10 agosto dal cosmodromo Vostozny lo spazio porto voluto da Vladimir Putin nell'estremo oriente della Russia programmata con l'Agenzia Spaziale Europea la collaborazione internazionale è stata interrotta dopo l'inizio della guerra. Era risaputo che l'esito della missione sarebbe stato a rischio la probabilità di completare con successo missioni come questa è stimata intorno al 70% aveva detto il capo di Roscosmos Yuri Borisov prima dell'allunaggio saranno 15 minuti di terrore prevedeva un esperto la sonda doveva atterrare nel polo sud della Luna quello che più interessa agli scienziati perché i crateri polari in ombra potrebbero contenere acqua nelle rocce l'obiettivo era di prelevare dei campioni della superficie verificare la presenza di ghiaccio e la radioattività si trattava anche di mettere a punto la tecnica di allunaggio e in teoria a studiare l'ipotesi dell'allestimento di una base umana anche come ponte per esplorazioni su Marte adesso Putin dovrà aspettare le nuove missioni Luna 26 e 27 abbiamo un'ampia pagina dello sport partiamo dal calcio nella prima domenica del nuovo campionato a steccare la Lazio di Sarri sconfitta all'edice ma in prima pagina ci sono soprattutto gli attaccanti e le loro doppiette vediamola agli acuti di Josimen e Lautaro di Sabato rispondono due bomber italianissimi Belotti e Candreva probabilmente intenzionati a stupire il nuovo CT azzurro Spalletti ai loro talenti si sono affidate Roma e Salernitane in una sfida terminata 2-2 che ha riproposto le lacune difensive della Roma in attesa degli sviluppi di mercato e la qualità della formazione campana rimanendo in Rivaltevere la Lazio ha confermato di soffrire particolarmente in Lecce diverso l'allenatore dei Salentini rispetto allo scorso anno da Versa al posto di Baroni ma schema uguale per gli uomini di Sarri messi alle corde nella ripresa da Lecce e poi trafitti dopo il gol iniziale di Immobile da Alkvist e di Francesco sembrano allora ripetersi i problemi di tenuta mentale e fisica ad inizio stagione della squadra di Sarri tutto sin troppo semplice per la Juventus che ha messo in copertina proprio gli uomini che sembravano in partenza Chiesa Vlaovic e Rabiot autori del Tris calato in casa dell'Udinese hanno fatto la differenza insieme ad uno Scesni autore di ottimi interventi chissà adesso se la società torinese cambierà strategia di mercato e rinuncerà al progetto Lukaku e se c'era un altro giocatore da riscoprire quello era di certo l'ex Milan De Ketelare all'Atalanta sembra aver trovato l'ambiente giusto e ha sbloccato una partita complicata sul campo del Sassuolo match chiuso nel finale dal gol di Zortea oggi il primo turno della nuova stagione si chiude con Torino-Cagliari alle 18.30 e Bologna-Milan alle 20.45 e adesso l'Atletica ai mondiali di Budapest dopo l'argento di Leonardo Fabri nel lancio del peso è arrivata la medaglia di bronzo nella 20 chilometri di marcia di Antonella Palmisano delusione invece per Jacobs fuori dalla finale dei 100 metri la grandezza non è nel non cadere mai ma nel come ci si rialza dopo che si è caduti e a volte anche da come si riesce ad affiancare la realtà alla metafora la medaglia di bronzo di Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia nasce davvero così è una caduta reale intorno all'undicesimo chilometro seguita da una reazione degna davvero del palmarès della 32enne pugliese campionessa olimpica sulla stessa distanza ma il cadere e rialzarsi nella realtà nel caso della Palmisano è assolutamente parallelo al significato metaforico di cui si parlava all'inizio dopo un 2022 tremendo forfea ai mondiali e agli europei chiuso sotto i ferri per risolvere chirurgicamente un problema all'anca sinistra e archiviato finalmente per poter guardare ora i giochi di Parigi di nuovo da protagonista cadere e rialzarsi è metafora perfetta anche per Marcel Jacobs il 10.05 con cui l'olimpionico dei 100 metri ha mancato per soli 4 centesimi la finale della gara regina vinta poi dallo statunitense l'Iles può sembrare una mezza delusione ma per il velocista che era arrivato al mondiale dopo oltre 70 giorni di stop tra infortuni e dubbi psicologici il ritorno alle gare è un indizio importante di resilienza lungo il cammino che lo riporterà all'olimpiade una olimpiade che potrebbe essere palcoscenico di definitiva consacrazione anche per la giovane Larissa Iapichino la figlia di Fiona May e Gianni Iapichino quinta con la misura di 6,82 ottenuta all'ultimo salto dopo una stagione straordinaria con tre vittorie in Diamond League e il titolo europeo indoor ha pagato Dazio alla tensione tre salti nulli su sei ho sbagliato io ha detto a caldo Laya Iapichino ma in un anno la figlia d'arte è andata dal quattordicesimo posto del mondiale 2022 fino a pochi centimetri dal bronzo e l'esperienza accumulata tutto è tranne che caduta da cui rialzarsi e dell'atletica al tennis Nova Djokovic ha vinto il Master 1000 di Cincinnati battendo Carlos Alcarazza in tre set per 5-7 7-6 7-6 al 23 volte campione del grande slam sono servite tre ore 49 minuti sotto un sole implacabile per avere la meglio sullo spagnolo numero uno al mondo e prendersi così la rivincita rispetto alla finale persa a Wimbledon il mese scorso dopo aver perso il primo set il serbo ha anche accusato un infortunio all'inizio del secondo visitato da un medico e quindi è rientrato in campo con la vittoria odierna sono tre i titoli conquistati a Cincinnati da Djokovic e chiudiamo con il motociclismo piloti e marchi italiani in grande evidenza del moto mondiale che ieri ha fatto tappa in Austria a Bagnaia e la Ducati al nono successo della stagione hanno fatto un deciso passo avanti verso il titolo 2023 nella scia del pilota torinese la KTM di Binder e le Rosse di Bezzecchi e Marini Pecco ha visto salire a 62 lunghezze il suo vantaggio nella classifica mondiale in moto 2 prima storica vittoria della Fantic grazie alla gara e rimonta di Celestino Vietti un altro allievo del vivaio di Valentino Rossi fra due settimane si torna in pista a Barcellona e subito dopo il classico appuntamento di Misano Adriatico e allora è tutto con le notizie del telegiornale ci fermiamo qui tra poco ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità autostradale poi le previsioni del tempo poi c'è Andrea Pennacchioli che conduce il dibattito e a seguire c'è Marco Piccaluga che conduce Coffee Break allora adesso la linea va subito a Valeria Colombo a tutti voi una buona giornata grazie 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 a tutti grazie a tutti